Adesso che siamo liberi, cosa facciamo giù? Quello che facciamo sempre! Usiamo, svaliggiamo e apriamo! Oh, vedete quello che vedo io? Oh, delle armi! Raissime! E bellissime! Di alta precisione! Che bella la città moderna! Sì, ma hai visto che prezzi, giù? Costano un occhio! Qui ci tocca rapinare una banca per potercele comprare! Procediamo con ordine! Rapiniamo l'ardeglie e poi la banca! Non potremmo rapinare anche una pasticceria? Ho un certo langurino!